Cominciamo a lodare, fratelli, fino a che la nostra bocca non è più paralizzata dal predicare il Vangelo. I nostri piedi non più zoppi nello spirito. Il cuore del nostro amore non più intasato e comincia a pompare, pompare il sangue e lo Spirito Santo del nostro amato Gesù, il nostro cuore spirituale, sto parlando. Qualcuno mi può spiegare perché vi sono fratelli che ci seguono per anni e che mai condividono di quello che Gesù sta facendo nelle loro vite. Mi spiegate, possibile che solo con loro Gesù non fa miracoli, testimonianze di ammalati guariti, anime salvate, diavoli cacciati. Forse questi fratelli sono più brutti degli altri, io dico di no, ma che forse però hanno creduto a qualche bugia di troppo del bugiardo. Ma ora, nel nome di Gesù, non più. Ora crederemo, confideremo in Gesù e chi è d'accordo con me dica Amen. Grazie a tutti.